Ben ritrovati su My Personal Trainer TV. Oggi parleremo di un batterio dalle tante facce, spesso innocuo e addirittura amichevole, ma a volte pericoloso e capace di causare delle importanti malattie. Mi riferisco all'escherichia coli. Escherichia coli è il nome di un batterio che vive comunemente nell'intestino umano, ma anche in quello di diversi altri animali a sangue caldo. Si concentra in particolare nel colon, quindi nell'intestino crasso, dove rappresenta uno dei microorganismi più pericolosi. L'escherichia coli entra quindi a far parte della flora intestinale come batterio commensale. L'aggettivo commensale sta ad indicare come, nel rapporto di convivenza tra due organismi, uno soltanto dei due tragga dei vantaggi da tale convivenza. Nel contempo, però, per poter parlare di commensalismo, l'altro organismo non deve subire danni da tale convivenza. Per riassumere, quindi, l'escherichia coli è un commensale, poiché sfrutta le sostanze nutritive presenti nel colon senza recare alcun danno all'organismo umano. Esistono in realtà molti tipi di escherichia coli e, anche se questi, come abbiamo appena visto, sono per la maggior parte commensali, quindi innocui, alcuni possono anche comportarsi da patogeni. alcuni ceppi, infatti, possiedono caratteristiche di virulenza tali da poter causare infezioni nel tratto gastroenterico e in altri apparati, in particolare a livello urinario. Mandiamo con ordine e iniziamo a conoscere l'escherichia coli dal punto di vista biologico. Partiamo dalla considerazione che l'escherichia coli è uno dei microorganismi più versatili esistenti in natura. è un batterio gram negativo, cioè negativo la colorazione di gram, e appartiene alla famiglia degli enterobatteri, così chiamati perché trovano il loro habitat ideale nell'intestino dell'uomo e di altri animali. L'escherichia coli ha una forma allungata a bastoncello ed è dotato di flagelli che utilizza per muoversi e di pili o fimbrie che utilizza per comunicare con altri batteri e ancorarsi alle cellule dell'ospite. Inoltre possiede un metabolismo aerobio-facoltativo, cioè può crescere sia in presenza che in assenza di ossigeno. La temperatura ottimale per la sua sopravvivenza è di 35-40 gradi centigradi. Per questo motivo l'escherichia coli vive facilmente, vive molto bene nell'intestino dell'uomo dove si comporta da commensale. Inoltre contribuisce alla corretta digestione del cibo, o meglio dei residui di cibo non digeriti, e alla sintesi di vitamina K, oltre a lottare contro altri microrganismi per accapararsi il nutrimento e i siti di adesione sulla mucosa intestinale. Per queste sue caratteristiche che abbiamo appena visto, l'escherichia coli potrebbe quindi essere considerato addirittura un simbionte. Ricordo che si parla di simbiosi quando entrambi gli organismi traggono un vantaggio reciproco dalla convivenza. Tuttavia, oltre che come commensale e come abbiamo appena visto come simbionte, l'escherichia coli può essere descritto anche come un patogeno opportunista. L'aggettivo opportunista in particolare ci dice come tale microrganismo possa approfittare di determinate circostanze per moltiplicarsi oltremodo fino a causare malattia. Infatti, sebbene per gli individui sani risulti innocuo, in soggetti che hanno meccanismi di difesa compromessi come ustionati, trapiantati, malati d'AIDS, eccetera, l'escherichia coli può prendere il sopravvento e causare malattie talvolta gravi. Inoltre, come abbiamo visto, alcuni ceppi possono essere descritti come patogeni in quanto capaci di causare malattia anche negli individui sani. Nelle prossime diapositive vedremo insieme quando e per quale motivo questi batteri acquisiscono un carattere aggressivo al punto da indurre malattia. La prima cosa da notare in questa diapositiva è che gli stessi ceppi commensali, quindi normalmente innocui, in determinate condizioni predisponenti possono causare malattia anche al di fuori del tratto intestinale. Come abbiamo visto, condizioni favorenti sono ad esempio la debilitazione del sistema immunitario, ma anche il diabete o la presenza di un calcolo o di un catetere urinario. Gli escherichia coli uropatogeni, detti anche UPEX, sono tra le principali cause di infezioni del tratto urinario. Grazie a delle fimbri e denominate P, che possono essere paragonate a dei tentacoli immunitidi ventose, gli escherichia coli uropatogeni possono risalire le viurinarie, ancorarsi alle mucose e produrre uretriti, cistiti, prostatiti, fino ai casi più gravi delle pielonefriti, quindi delle infezioni renali. Altri ceppi di escherichia coli possono determinare malattie extraintestinali come meningiti, setticemia, peritonite, polmonite o anche infezioni di altri organi interni. È però a livello intestinale che alcuni particolari ceppi di escherichia coli patogeni causano i disturbi più frequenti, con comparsa di diarrea talvolta associata ad emissione di sangue e a disturbi della funzionalità renale. Nelle prossime diapositive ci concentreremo quindi sulle infezioni gastroenteriche, quindi dello stomaco e dell'intestino, mentre le infezioni urinarie ed escherichia coli saranno affrontate in un prossimo video. I ceppi di escherichia coli responsabili di queste infezioni gastroenteriche possono causare malattia secondo vari meccanismi. Alcuni dei numerosi tipi di escherichia coli sono tossigenici, cioè producono tossine che possono essere causa di diarrea. Altri invece invadono la mucosa intestinale causando danno tessutale e infiammazione. Tra i numerosi ceppi di escherichia coli associate a patologie enteriche si ricordano soprattutto gli enteropatogeni, conosciuti anche con la sigla EPEC, gli enterotossigeni o ETEK, gli enteroinvasivi, gli enteroaderenti e gli enteroemorragici. Tra tutti questi ceppi vale la pena evidenziare proprio questi ultimi, cioè gli escherichia coli enteroemorragici, poiché risultano particolarmente aggressivi. Rappresentano inoltre tra i principali responsabili di malattia nei paesi industrializzati. La proliferazione di ceppi enteroemorragici e il conseguente rilascio delle loro tossine possono provocare diarrea emorragica, appunto, quindi feici liquide farmisti a sangue. Inoltre nel 5% dei casi, soprattutto nei soggetti più deboli, quindi nei bambini e negli anziani, le infezioni enteroemorragiche scatenano una grave complicanza nota come sindrome emolitica uremica. Si tratta appunto di una forma molto grave di insufficienza renale che può essere addirittura fatale. Un altro ceppo importante è sicuramente l'escherichia coli enterotossigeno che insieme a quello enteropatogeno rappresenta il più frequente agente causale di diarrea batterica ed è spesso implicato anche nella cosiddetta diarrea del viaggiatore che colpisce appunto i viaggiatori che si recano per turismo o per lavoro, soprattutto in paesi in via di sviluppo. In questa diapositiva approfondiremo le possibili cause di infezioni da escherichia coli patogeni. Tale infezioni possono essere contratte attraverso il contatto con le feci sia di umani che di animali. La trasmissione avviene quindi soprattutto per via oro fecale. Ad esempio i batteri possono entrare nell'organismo bevendo acqua omaggiando alimenti contaminati dalle feci stesse. Ricordo che la presenza delle scherichia coli nelle falde acquifere rappresenta un indicatore comune di contaminazione fecale. Le feci infatti possono riversarsi in laghi, canali, piscine o rifornimenti idrici e le persone di conseguenza possono infettarsi ingoiando accidentalmente l'acqua mentre fanno il bagno. Analogo discorso per gli alimenti, tanto che le scherichia coli viene tipicamente ricercato nelle analisi effettuate dagli ispettori sanitari nell'ambito della ristorazione collettiva. La contaminazione dei cibi può avvenire anche durante la macellazione o la preparazione della carne. In particolare se la carne cruda infetta non viene poi adeguatamente cotta, il batterio sopravvive e noi possiamo chiaramente infettarci semplicemente ingerendo questa carne. L'hamburger dei fast food è particolarmente a rischio poiché le scherichia coli penetrato in profondità a causa della carne macinata resiste alla debole temperatura di cottura e tempi piuttosto veloci di cottura. Altri alimenti a rischio oltre la carne sono i vegetali, in particolare lattuga, spinaci e germogli, ma anche i succhi di frutta non pastorizzati, il latte crudo e i formaggi derivati. Le scherichia coli infatti possono diffondersi dalle mammelle della mucca al suo latte. Il batterio può essere trasmesso anche da una persona all'altra, ciò avviene di solito quando non si lavano le mani dopo essere stati in bagno o attraverso rapporti sessuali di natura oro-anale. Il medico può diagnosticare un'infezione intestinale del scherichia coli dopo aver posto alcune domande riguardo ai sintomi e aver effettuato alcuni esami, primo fra tutti quello delle feci. Da questo esame, chiamato copro-coltura, infatti è facile rilevare la presenza del batterio. Sono comunque disponibili altre analisi di laboratorio e anche test molecolari utili per la ricerca sierologica delle tossine e la determinazione del sierotipo batterico, quindi per individuare il tipo di scherichia coli coinvolto. Per quanto riguarda il trattamento, in genere l'infezione sostenuta da scherichia coli si risolve spontaneamente senza dover ricorrere a particolari farmaci. Per questo motivo spesso il medico si limita a raccomandare il riposo e, come sempre, la generosa assunzione di liquidi per rimpiazzare le perdite idriche e saline attraverso la diarrea. La terapia antibiotica, invece, oltre che normalmente non necessaria, come abbiamo appena visto, in alcune circostanze potrebbe addirittura peggiorare la situazione, contribuendo al rilascio di tossina botulinica e aggravando le condizioni generali dei pazienti. Per quanto riguarda poi le possibili complicazioni, abbiamo già visto come in alcune persone l'infezione da scherichia coli possa generare dei problemi al sangue e i reni. I pazienti più critici possono richiedere un trattamento intensivo basato su dialisi e trasfusione di sangue fino ad arrivare al trapianto di reni. Fortunatamente sono comunque circostanze piuttosto rare. Una cosa molto importante da ricordare è che molte infezioni da scherichia coli si potrebbero facilmente prevenire migliorando semplicemente le condizioni igieniche generali. Per prima cosa è consigliato bere solo acqua potabile e questo chiaramente va ricordato soprattutto quando si viaggia in paesi dove l'acqua non è trattata, per cui sarà importante in questi casi evitare anche il consumo di ghiaccio e porre particolare attenzione anche l'utilizzo dell'acqua di rubinetto per lavarsi i denti. È chiaramente importante lavarsi sempre le mani con acqua calda e sapone, soprattutto prima della preparazione degli alimenti, dopo aver toccato carne cruda, dopo aver fatto uso della toilette o essere venuti a contatto con animali. La carne cruda, soprattutto quella macinata come abbiamo visto, deve essere sempre cotta a una temperatura minima di 70 gradi centigradi per almeno due minuti o comunque per più tempo se si vuole la sicurezza assoluta. Dobbiamo accertarsi in particolare che anche gli strati di carne più interni perdano il colorito rosato che è tipico della carne cruda. Inoltre per evitare la contaminazione incrociata occorre conservare e preparare le carni crude separatamente da quelle cotte, evitando di utilizzare le stesse superfici o gli stessi utensili non lavati per manipolare l'alimento cotto. Per quanto riguarda poi gli alimenti vegetali come frutta e verdura, questi andranno chiaramente lavati con acqua potabile e sbucciati prima del consumo, soprattutto se non possono essere cotti e se vengono quindi consumati crudi. Infine è opportuno bere soltanto latte, prodotti caseari e succhi pastorizzati. Con questo concluso mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento e di avervi presto ancora qui su My Personal Trainer TV.